Bene, un saluto a tutti quanti gli amici di Androidblog e agemobile.com Questa sera vogliamo fare un piccolo approfondimento sull'utilizzo della S-Pen La S-Pen si estrae da questa parte, la parte posteriore E appena estratta, praticamente oltre ad apparirci S-Pen è stata rimossa Ci appare praticamente, ora che l'ho tolto io, ma praticamente ci appare questa griglia Che racchiude un po' tutte le funzionalità che si possono fare con la S-Pen La penna questa volta è fatta in questa posizione, realizzata in questo modo E devo dire che abbiamo la possibilità, come dire, del 50% di azzeccare la posizione del tasto Perché è vero che è posto in questa zona, quindi io so che è posto qui Però sinceramente se non vado a guardare dov'è, visto che comunque è anche bianco, dello stesso colore della penna Non riesco a capire bene, cioè nel senso potrei prendere la penna da questo punto E andare a premere il tasto qui, che in realtà però non c'è perché è posto dall'altro lato Un po' scomoda secondo me questa cosa O perlomeno avrei fatto un tasto un po' più al tatto, un po' più ritrovabile Ecco, mettiamola così Bene, detto questo, allora, quindi sulla S-Pen andiamo a parlare delle funzionalità che ha la penna Prima di tutto la penna, lo potete vedere, spero di riuscire a farlo vedere Io non sto toccando il display, ma riesco a muovermi sulle varie opzioni senza andare a toccare il display Infatti il display è sensibile allo sfioramento Inoltre la penna attiva questo, se non siamo appena estratti la penna ma vogliamo attivarlo Basta premere il tasto e avvicinarci allo schermo, basta quando appare un tondino Basta poi premere il tasto e ci appare questa funzionalità Se siete abitati ad altri noti sappiate che non valgono più la possibilità di fare dei gesture particolari Per andare ad utilizzare, ad aprire menu e andare indietro Infatti la penna, questa volta, è sensibile anche ai tasti che sono qui in fondo Magari sarebbe stato buono lasciarli anche le scorciatoie visto che magari potrebbe essere comodo Qui viene attivata la possibilità di aprire la doppia finestra, il doppio schermo Bene, andiamo a vedere le funzionalità della penna Quindi vado a riaprire il menu Abbiamo quindi come prima cosa il memo rapido Il memo rapido praticamente è una cosa carina Ci permette di scrivere un po' quello che vogliamo a mano libera Io non ho una grandissima Praticamente calligrafia Quindi non fate caso al fatto che la mia calligrafia non sia granché Una volta che ho scritto si può anche andare a cancellare Facciamo anche cancellare tutto E vi faccio vedere una particolarità che mi sembra davvero interessante Per esempio mettiamo caso che abbiamo una nostra amica che non so si chiama per esempio Sara E Sara ci ha dato il suo numero di telefono Magari su un altro telefono che abbiamo Il numero di telefono, il solo telefono, scusate per il gioco di parole Ma facciamo fine che siamo in linea con Sara magari al telefono di casa E ci sta dando il suo numero di telefono E magari ci dice che è di 3, 4, 6, 2, 8, 5, 4, 9 per esempio Ora io posso decidere di andare a cliccare su questa cosa E mi dice, su questa nuvoletta E mi seleziona quello che ho fatto E posso andare allora o a chiamarlo O praticamente a salvarlo in rubrica E come vedete praticamente mi esce già Sara Già il cellulare inserito e posso fare praticamente già salva Facciamo annullo nel caso E facciamo ok E posso riprendere la nota che nel frattempo è rimasta aperta E andare a fare altre possibilità E-mail, messaggio, cercare sul web e quant'altro Quindi direi ottima la funzionalità per questo memo rapido Poi abbiamo sempre presente il famoso Snot Quindi è presente la possibilità di scrivere a mano Ciao Mauro per esempio E poi posso andare a selezionare questa mia cosa che ho scritto Ok ho scritto malissimo Quindi facciamo una cosa Cangelliamo tutto E lo rischiamo da capo Sperando di essere Magari scriviamo solo casa Cerchiamo di essere un po' più preciso Io purtroppo la mia calligrafia non è un granché Vado a selezionare casa Posso fare trasforma in Mettiamo caso che voglio trasformarlo in testo Ecco che mi esce casa Oppure non so 3 Scusatemi Rimetto qui 3 più 2 uguale praticamente 5 E vado a riprendere la mia Cosa Magari faccio trasforma in formula E Vediamo un po' che mi esce 3 più 2 Vabbè uguale a S In questo caso ho scritto 5 Capito S Ma diciamo che Il discorso era Era quello Qui posso selezionare di Non usare Usare la mano Usando la mano posso Praticamente utilizzare Quindi la penna così Anche senza penna Invece senza mano Io posso poggiarmi Anche sul telefono E qui andare a scrivere Con più sicuramente Precisione Bene Detto questo Allora andrei a parlare Delle altre funzionalità Che sono presenti Nel display Abbiamo album Ritagli E direi che Era presente anche Su altre Su altre funzionalità Del Del note Scusate ho sbagliato Mettiamo caso Quindi Che io voglio andare a ritagliare Queste due icone Facebook e Gallerie Voglio ritagliare qualcosa Sul web Che aveva più senso Ma purtroppo Sbagliato a premere Lo faccio adesso Vado sul web Per esempio Io voglio Non so Avere Per esempio Un Un ritaglio Del Non so Del logo Del Del logo Del Samsung Galaxy S4 Allora vado a fare Questa operazione qua E vedete Mi prende Samsung Galaxy S4 Poi posso Permettervi Salvarne il mio raccoglitorio Oppure Creare una categoria Per esempio potrei fare Una categoria Non so Internet Dove salvo Tutte le pagine Che prendo su internet Faccio così E praticamente Mi salva Tranquillamente L'immagine Nell'album Ritagli Poi Altra Funzionalità E la scrittura A schermo Ci fa Praticamente Uno screenshot E noi possiamo Praticamente Decidere Andarci A scrivere Sopra A scarapocchiare A fare Quello che vogliamo Oppure magari Andare a selezionare Un'icona O più icone Questo è qua Naturalmente Qui possiamo Sempre andare A selezionare Il tipo di penna Su ogni cosa Che abbiamo visto Si può andare A selezionare E cambiare Quindi La La penna Il pennarello Il tratto E quant'altro E poi si può andare A cancellare tutto quanto Ok Poi Andando ancora più avanti Stiamo tornando Vedete Sullo schermo principale Questa volta si sposta Si può andare In questo caso Anche ad utilizzare L'HastFinder Questo può essere utilizzato Anche senza La penna E ci permette Vedete Di cercare Trenta giorni precedenti Sette giorni precedenti Ieri Oggi Scrittura a mano Note Comunicazioni Guida Immagini Quindi ci permette Sia scegliere Diciamo L'argomento Da andare a cercare Sia anche La L'asso temporale Poi Altra possibilità Che praticamente E anche L'ultima La funzione penna Ci permette Di andare Ad attivare Una serie Di comandi Che sono attivabili Solo dalla penna Per esempio O perlomeno Non attivabili solo dalla penna Ma che sono Customizzabili Diciamo Solo con la penna Praticamente Mettiamo una sorta Di finestra Sulla nostra finestra Di lavoro Magari non so Mi viene in mente Che stiamo facendo Alcune cose Su internet Dobbiamo fare un conto E prendiamo Quindi La nostra calcolatrice Poi comunque Possiamo anche andare Volendo Ad ingrandire Ecco qua Oppure A diminuire E si vanno A fare i conti E naturalmente Vabbè Formato errato Magari facciamo Una cosa un po' più normale 7 per 8 Direi che fa 56 E quindi Possiamo chiudere La calcolatrice Lo sbaglio Prima di due volte Bene Poi un'altra feature Particolare Che era Se non ricordo male Anche il noto in precedenza Precedente Facciamo così Clicchiamo sulla galleria Andiamo Pesiamo nelle immagini Possiamo fare Una sorta Di anteprima Però mi sembra Che non ho attivato L'air gesture Allora Un attimo Che non mi sembra Si è attivato L'air view Ok Che infatti L'air gesture Che sono comunque Vabbè L'air gesture In questo caso Non penso che mi serva Mi serva più che altro Come ho detto prima Questa qui Deve essere attivata Cioè l'air view Che naturalmente È presente anche Sul Samsung Galaxy S4 Quindi in questo caso Io vado a passare Vedete La penna Non tocco Solo sfiorando Lo schermo Anche a questa distanza Vedete Riesco a fare Ingrandimento Della foto Infine L'ultimo L'ultimo Che voglio farvi vedere È Scratchbook Allora Andiamo avanti Ok Questo particolare Come dire Tool È davvero Pazzesco È un È un tool Di disegno avanzato Si può andare qui A scegliere i pennelli A scegliere il raggio La capacità Il tipo di pennello Si può fare anche Una Come dire Una Una Un disegno davvero Di Importante Ad esempio Non so Possiamo prendere Che dirvi Un Un albero Una foglia Mi sembra Questa Cos'è Cos'è Magari Vedete Posso andare a Combinare Diverse Diverse cose Fare questo Queste cose Diciamo particolari Poi posso scegliere Anche altri pennelli A mia discrezione Qui ho tutte quante La possibilità Posso inserire anche queste Per esempio Facciamo finta Che ci sia Anche Un insetto Posso andare A cambiare A scegliere Quali tipi di colori utilizzare Vedete Posso scegliere sia da qui Sia andare a modificare Da qui sotto Quindi abbiamo Un tool abbastanza avanzato Poi abbiamo Altri strumenti Sia disegno a mano libera Linee Rettangoli Righele Riempi Insomma Un Abbiamo qui Varie preferenze Simmetria Barra strumenti Pannello leggero Attiva tavolozza Insomma E un Un tool davvero potente Che servirebbe Forse un focus Di mezz'ora Solo Su questo Dispositivo Era giusto Un Un piccolo focus Per far vedere Anche questo Particolare Questa particolare Applicazione Bene Direi quindi Che quel focus Sull'S Pen Per il focus Sull'E Pen È tutto Ringrazio allora Tutti gli amici Android Blog E 10g mobile Ci vediamo Per poi Altri Magari Focus Sull'S 4 E sul Scusatemi Sul Note 3 E quant'altro Bene Ciao a tutti ragazzi Alla prossima Ciao 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 Ciao